Tutto è cominciato, o sarebbe meglio dire sia accentuato, con le esplosioni, con le sirene antiaeree, con la paura, la fuga, la disperazione. È passato un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, dall'invasione russa che ha acuito ulteriormente quelle tensioni in essere tra i due paesi già nel 2014 e forse anche prima. Un conflitto di cui oggi si percepiscono e tanto le conseguenze. Sul piano anzitutto geopolitico, quindi su quello sociale, economico, morale. Sono passati 365 giorni, ma sembra soltanto ieri. E davvero pochi passi sono stati fatti in avanti per la pace. Una pace invocata da più parti e a più riprese, ma senza che ci sia davvero una reale possibilità, reali passi in avanti. Da una parte l'aggressore, la Russia, dall'altra l'aggredito, l'Ucraina. Nel mezzo migliaia e migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare la propria terra per evitare di morire, per continuare semplicemente a vivere, nella speranza di tornare un giorno. È uno dei momenti più tristi nella storia contemporanea dell'Europa, perché era dagli anni della guerra dei Balcani che il vecchio continente non conosceva uno spargimento di sangue di questo tipo. Le ripercussioni non sono mancate in tema di sanzioni economiche, in rifornimenti di armi e aiuti e appoggio dell'Occidente verso il premier ucraino Zelensky. Ma ad essere in gioco, prima di ogni altra cosa, è la libertà di un popolo che ancora non conosce pace. Donbass, Mariupol, Zaporizia, Kherson, Donetsk, Lugansk, Bucha, località sconosciute e più, almeno sino al 24 febbraio 2022, ma che adesso sono solo alcune pagine di una drammatica attualità, con un futuro tutto da decifrare.